adesso liberiamo un giovane giro nel suo habitat naturale un piccolo bosco dove ci sono querce nocciole e castagne quindi trova molto molto alimento adatto per la per la sua dieta i giri infatti sono dei roditori granivori e mangiano questo questo tipo di cibo raramente mangiano degli invertebrati ma soltanto una piccolissima parte quando capita occasionalmente questo giovane giro è stato rinvenuto in difficoltà da alcune persone che lo hanno lo hanno curato poi me lo hanno affidato per alcuni giorni affinché si abituasse un pochettino più alla vita selvatica adesso è pronto per essere reintrodotto in natura e gli ridiamo la libertà ecco sta giudando questa grossa quercia sulla quale l'ho l'ho collocato e adesso deve esplorare la zona per trovarsi un idoneo rifugio per la notte forza 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 che sono perfett forza ha per che per per lavoro Grazie a tutti.